Magari qualcuno di voi pensava che oggi arrivava qui con un occhio così, con la faccia, perché abbiamo andato tutti a pugni. E questa è la grande bugia. I giocatori infatti mi hanno detto che piace tanto a loro il modo come lavoro io con loro. Mi hanno detto esattamente lo stesso. Mi hanno detto che allo largo della loro carriera hanno avuto dei allenatori che parlavano di un modo totalmente diverso dal mio. Con me non ci sono secreti. Quello che dico in faccia, do anche ai giocatori la possibilità di dialogo quando parlo non ho intenzione di un monologo. I giocatori mi hanno tutti detto che non vogliono che io cambio. Io l'ho detto anche loro, io non cambierebbe anche se tu mi dici che devo cambiare. Però mi hanno detto non cambiare perché è questo che noi vogliamo. Quello che tu chiama di sfogo o quello che la gente può dire, un allenatore che ha criticato i giocatori dentro dello spogliatoio, quella roba lì. Quello è lavoro, quello è allenare. Per questa ragione la storia che esce di problema fra me e i giocatori. Io potevo chiamare una cosa bruttissima. Potevo utilizzare qualche parola che ho utilizzato anche in conferenza stampa nel mio tempo dell'Inter. Non lo voglio fare, non lo voglio ripetere, non lo voglio ripetere, 12 anni dopo sono tanti anni. Però devo dire con tutte le lettere, bugia totale.